Venerdì 16 giugno, a quanto si è appreso nel giorno dedicato a Santa Aureliano, vescovo di Arlè, nella Gallia francese, questa volta a Roma dovrebbe essere firmato l'atto che costituirebbe il preludio per la riattivazione dello scalo aereo di Fenoso. Sperando che l'influenza del santo, discendente da una famiglia di altri prelati, porti fortuna ai destini sempre incerti dell'aeroporto ristanese, si resta in attesa di conoscere la natura del documento che il titolare della società Aereonic Riccardo Faticoni, che ha acquistato Fenoso, firmerà con l'ENAC, l'ente dal quale dipendono tutte le procedure per la gestione degli aeroporti italiani. Struttura dell'ENAC, che ben conosce la situazione di Fenoso, per i precedenti intercorsi con la SOGEAR, la società capitale pubblico, che aveva avviato la gestione dello scalo, con l'apertura dei voli di linea interrotti dopo un semestre di prove. Ora si dovrebbe aprire un nuovo capitolo, ma parlare di riavvio dello scalo in tempi brevi appare quanto mai prematuro. Il problema dei cinghiali, delle cornacchie e delle nutrie non è stato del tutto debellato. Nell'oristanese anche i fenicotri rosa danneggiano gravemente le risaglie, come conferma Confagricoltura, impegnate in questi giorni a raccogliere numerose segnalazioni manifestate dai risicoltori locali. I campi coltivati a riso, dove si concentra quasi il 100% di questo tipo di cultura di tutta la Sardegna, sono costantemente devastati, soprattutto dalla presenza dei fenicotteri, che nello scavare, calpestare e filtrare i suoli impediscono nelle superfici appena seminate che le piante possano nascere e svilupparsi. La Vifauna presente è una ricchezza per tutti, un di più ambientale che va tutelato dalla collettività e da misure ad hoc messe in campo dall'assessorato Regione dell'Agricoltura, in collaborazione con quello della difesa dell'ambiente, ha affermato il presidente di Confagricoltura, Tonino Sanna. Non possiamo pretendere che la buona convivenza tra uomo e natura sia praticata sulle spalle e soprattutto sul lavoro a perdere degli imprenditori agricoli. Nella Sardegna della politica la sensazione è quella di essere fuori tempo massimo a giudicare dalle dichiarazioni attribuite a diversi leader politici che scendono sul campo infiammato dalle elezioni regionali della prossima primavera. In rapida sequenza i diversi schieramenti si stanno posizionando e se nei giorni scorsi a livello locale sono stati i riformatori a stringere il cerchio con il responsabile provinciale Andrea Santuccio e i sindaci di Oristano Massimiliano Sanna, Santa Giusta Andrea Casu e Sedilo Salvatore Pes, oltre ad alcuni dirigenti regionali del partito, tra i quali Massimo Fantola, un incontro tutto interno anche per fare ordine sulle recenti polemiche che per la elezione del presidente del Consorzio Industriale hanno coinvolto questo partito. Riflessi esterni invece per i 5 Stelle che a Tramazza hanno riunito gli stati generali per avviare le strategie di un movimento che a quanto emerso intende andare verso alleanze con il Partito Democratico e in Sardegna, stando ad una dichiarazione del senatore Ettore Lerichieri, devono essere ancora individuati i principali problemi da affrontare e quali le soluzioni più efficaci con il Movimento 5 Stelle che li racchiude in 10 punti. Sabato 3 e domenica 4 giugno circa 10.000 visitatori si sono riversati nei musei cittadini e negli altri luoghi della cultura, aperti in occasione di Monumenti Aperti e Buongiorno Ceramica. Tra i siti culturali preferiti, la Torre di Mariano e l'Antiquadio Marborense che hanno superato le mille presenze, ma sono stati tanti anche i visitatori che hanno scelto il Seminario Tridentino, la Pinacoteca Carlo Contini, Palazzo Arcais, la Torre di Portigedda, l'Archivio Storico del Comune e Palazzo degli Scoloppi, il Museo del Cesare Almorense, le Tombe Bizantine, Palazzo Campus Colonna. Tra i siti preferiti dai visitatori, quelli che hanno ospitato gli allestimenti con le ceramiche tradizionali, un'eccellenza d'Oristano che nello scorso fine settimana ha avuto modo di essere promossa in maniera adeguata in un weekend che ha regalato grandi soddisfazioni, ha affermato l'assessore alle attività produttive Rossana Fuzzi. Con Buongiorno Ceramica, i ceramisti e le ceramiche sono stati i grandi protagonisti in piazza Leonora e all'ospitale di Santi Antoni. Ringrazio la Proloco e i docenti e gli studenti del liceo artistico Carlo Contini, i ceramisti locali, le suore Clarisse del Monastro di Santa Chiara, la Fondazione Oristano, la cooperativa sociale Ollus Si Scout e il Circo Lo Scherma di Oristano. Tutti hanno concorso a proporre un programma molto ricco con la mostra di ceramiche artistiche, proiezioni, esibizioni sportive, performance musicali e visite guidate. Parlare di bullismo non è facile. Non lo è mai per chi lo subisce, per i genitori, per gli insegnanti. Per questo motivo la Giunta regionale ha deciso di promuovere iniziative finalizzate a prevenire e contrastare tali fenomeni. L'assessore alla pubblica istruzione Andrea Bianca Reduo ha dunque sostenuto la necessità di incaricare il competente servizio della Direzione Generale della Pubblica Istruzione per l'emanazione di un avviso per la selezione di progetti utili all'istituzione di sportelli di ascolto, coordinati e gestiti da professionisti specializzati in interventi sul bullismo che coinvolgano alunni, insegnanti e gelitori, destinando in totale 150.000 euro, di cui 76.000 euro per le scuole primarie e secondarie di primo grado e 74.000 euro per le scuole secondarie di secondo grado. Per ogni sportello un finanziamento massimo di 4.000 euro. Ogni autonomia scolastica potrà proporre un solo sportello con possibilità di costituire reti associate fra almeno tre autonomie scolastiche che potranno attivare i due sportelli ogni tre scuole associate. Domenica 11 giugno a Oristano, settima edizione della Rotary Corre. I protagonisti della corsa saranno professionisti, amatori e semplici cittadini che nelle prime sei edizioni hanno fatto crescere la manifestazione benefica patrocinata dal Comune di Oristano e dalla provincia e organizzata dal Rotary Club, Rotaract e Interact di Oristano. Questa mattina a Palazzo Campus Colonna la presentazione della manifestazione è la presenza del sindaco Massimiliano Sanna, degli assessori allo sport Antonio Franceschi e ai servizi sociali Carmen Murru. Il Comune sostiene con entusiasmo questa manifestazione che è diventato un appuntamento fisso per la città, hanno detto il sindaco Sanna e gli assessori Franceschi e Murru presentando l'evento. Il connubio sport sociale funziona sempre e Oristano ha sempre risposto con entusiasmo. Quest'anno lo scopo principale della Rotary Corre sarà l'acquisto di un sollevatore per piscina, ausilio per le persone con limitate capacità motorie, uno scopo nobile per una manifestazione di sicuro successo. La Rotary Corre sta diventando una classica, ci siamo fermati solo per la pandemia, ha evidenziato il presidente René Opiciao. In questi anni la manifestazione è cresciuta tantissimo con un'organizzazione sempre più complessa e partecipata. La città e i runner la aspettano e anche quest'anno l'appuntamento arriva puntuale. Dal 2014 la Rotary Corre unisce la promozione sportiva alle finalità sociali che sottolineano l'importante azione svolta dal Rotary anche a Oristano, ha aggiunto Adriana Muscas, governatore designato Rotary Distretto 2080 e past presidente Rotary Club Oristano. Nel corso della conferenza stampa è stata ricordata Bianca Muscas, scomparsa nei giorni scorsi. Bianca è stata l'anima del Rotary per tanti anni e per noi è un doveroso omaggio a una persona che ha dato tanto a questa città, ha detto Ugo Scanu, presidente della commissione sport del Rotary Club Oristano, che poi si è soffermato sugli aspetti tecnici della manifestazione il cui programma tecnico prevede una corsa di 10 km competitiva, una di 10 km non competitiva e una di 3 km ludico-motoria. Si attendono almeno 500 partecipanti che prenderanno il via alle 9.30 da Piazza Roma. Nuove regole per garantire la copertura dei costi energetici sostenuti dai consorzi di bonifica della Sardegna per la fornitura d'acqua al settore agricolo e superare le criticità dovute ai rincari e alle forti oscillazioni del prezzo dell'energia conseguenti alla situazione internazionale. I nuovi criteri sono stati approvati dalla Giunta Solinas su proposta dall'assessore regionale dei lavori pubblici Pierluigi Saiu. I parchi urbani sono aree verdi pubbliche di almeno 5.000 metri quadri situate all'interno di una città o nelle sue immediate vicinanze per fornire uno spazio ricreativo a contatto con la natura. La Regione vuole supportare i comuni nella gestione e la manutenzione di questi spazi verdi con l'obiettivo di avviare un processo di valorizzazione, lo ha detto l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Marco Porcu dopo l'approvazione della delibera che stanzia 3 milioni di euro nel triennio 2023-2025 come contributo ai comuni. Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica e Estrascolastica Plus si prefigge di garantire assistenza educativa specialistica ai minori residenti nel territorio dei 32 comuni dell'ambito Ales-Terralba. Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi, portatori di bisogni educativi speciali, frequentanti le scuole per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado. Le domande dovranno essere inviate all'email sociale chiocciolacomunemarrubiu.it dell'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Marrubiu di Residenza entro e non oltre giovedì 20 luglio 2023. L'Ecocentro Comunale di San Verominis sarà chiuso dal 14 al 21 giugno. Sabato 10 giugno l'Università di Sassari e la sua sede gemata di Oristano, il Consorzio 1, saranno ospiti del Centro Europeo di Documentazione del Romanico a Santa Giusta per una importante lezione sui restauri delle chiese romaniche in Sardegna dall'Ottocento a oggi per garantirne la tutela e la valorizzazione e comprenderne la loro consistenza attuale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS